Panorama sui rifiuti, altro che bel vedere questa mala vista se la sono dovuta sorbire per anni gli ospiti della casa di riposo di Parco Città a Vicenza, finché la signora Ida che quotidianamente viene a trovare l'anziana suocera ha chiesto a noi di Rete Veneta di intervenire portando un messaggio direttamente al sindaco. Io chiedo veramente per favore al sindaco di Vicenza, ci tolga questa isola ecologica che proprio per questo istituto sarebbe una cosa bellissima, per gli anziani proprio farebbe un grande favore a queste persone. Quel posto lì deve essere libero perché loro si godono un po' la terrazza, se no vengono fuori e sentono la puzza delle mondizie, non è giusto. È un brutto vedere, anche per le persone quando entrano qua e vanno su dalle scale lì non è bello da vedere. Detto fatto, noi di Rete Veneta abbiamo documentato la situazione e portato la voce degli anziani della casa di riposo al nuovo sindaco, Francesco Rucco. Facciamo un'isola un pochino più in là, cosa dici? Guardate, avrò un incontro nei prossimi giorni con la IEM Ambiente che si occupa di questo tema e porterò la richiesta da IEM Ambiente in questa direzione e vediamo di riuscire a contentare i nostri anziani. E così eccoci ad oggi, quando il sindaco di Vicenza ha convocato la stampa per fare il grande annuncio, sposterà i bidoni dei rifiuti dalla casa di riposo. Abbiamo risolto il problema con apprezzamento da parte degli anziani che siamo andati a trovare, ma anche dei residenti che non si vedono spostati i bidoni sotto casa. E noi adesso andiamo a sentirli gli anziani. Ed ecco alcuni ospiti della casa di riposo, buongiorno. Allora, abbiamo ottenuto questo piccolo grande risultato, riuscire a far spostare i bidoni della spazzatura. Giusto, giusto. Ringrazio Rettveneta per la partecipazione che è venuto qua per portarvi a tutti questi castelletti. Finalmente sì, anche perché ci fa un po' di posto per le auto. Miglioriamo il panorama? Sì, sì, sì. È bello, mi piace a me. Bene. Anche lei è contenta? Sono contenta, sì. Era ora della verità, più per loro, perché una visuale così non è proprio il massimo. E se gli ospiti della casa di riposo sono contenti, il più felice di tutti è Daniele Bernardini, presidente di Iparc. Sì, posso ritenermi veramente soddisfatto e ringrazio Rettveneta, il comitato dei familiari per questa azione, diciamo, sinergica che ha portato alla soluzione di un problema che è da anni che si trascina. Bene, grazie Sindaco per aver risposto alla segnalazione di Rettveneta. Sì, abbiamo raccolto la segnalazione, è una segnalazione importante e noi dove potremo chiaramente interveremo in maniera tempestiva. I tempi? Ma lo spostamento dei bidoni qualche giorno, il decoro e l'arredo qualche settimana. Bene, allora noi come lei sa, siamo come Sant'Omaso, dobbiamo vedere per credere, quindi aspettiamo di vedere questa soluzione fino ad allora per noi. La questione non finisce qui, ma lo sa. Sì, sì. Continua. Continua. Continua.